bellissime dosare di qualsiasi età benvenuti in un nuovo appuntamento quattro chiacchiere col tacco più spesa oggi è venerdì 18 ottobre vai vai fin qua tutto bene allora vi domanderete come mai sto facendo il video di venerdì io ho messo un pazzo salto da venerdì alla domenica con un canguro diciamo che ho fatto perché ho un accumulo molto elevato di ferie quindi essendo leggermente calato il lavoro ne hanno approfittato piuttosto pagarle che alla fine come costa anche più di trattenuti a me sto a casa come se fosse lavoro insomma quindi oggi ho fatto le pulizie siamo andati lisa a frangire ti manca perché dovevamo finire delle pratiche per per la surruga no per la sua perché con la surruga nel mutuo non dovuto collegarsi a delle carte di credito ricaricavi perché siccome che luisa deve internet le usa molto per comprare cose varie per essere sicuri che non siano cronate o anche se sono con arte non sono collegate al conto corrente quindi abbiamo fatto anche l'operazione lì e li abbiamo presi col marchio del vvf quindi e vengono casa verranno a casa come non so che figura di animale e con nome con nome quindi sono più personalizzate sono più belle così ecco invece perché se le potevamo andare direttamente in banca ma sono anonime e classiche quindi non si perché abbiamo dovuto aprire un nuovo conto corrente perché abbiamo fatto abbiamo fatto la surruga odio stiamo finendo di fare la surruga comunque è passata ci sono i vari tempi come sapete voi dal notario tutto quanto quindi andremo anche risparmiare sul mutuo perché ovviamente si tassi interesse sono calati molto quindi ne abbiamo approfittato questa è la seconda surruga quindi vedete ragazzi e siamo anche al limite perché ormai le banche con un capitale residuo che ci rimane non è stato facile neanche quello perché ormai le banche che cercano di fare delle surruga quando c'è ancora capitale altro per guadagnarsi qualcosa questa quale ha diretti già fatto un favore perché alla fine la banca non ci guadagna anche tanto però va bene così per noi è stata molto gentile e quindi andiamo avanti poi cosa posso dirvi bene il tempo è quello che ormai stiamo andando verso siamo in ottuno inoltrato e beh insomma appena iniziato però vedete che io in casa sto ancora bene in canottiera abbiamo 22 gradi non ho ancora acceso quindi per il momento va bene fuori c'è brutto ma fanno ancora c'è ancora 18 gradi e la mattina c'è un po più freddo però possiamo dire che se continuo così risparmiamo leggermente anche riscalamento meglio così no poi cosa posso dirvi beh sto seguendo il nido come non so se avete fatto caso nel canale di luisa c'è anche ho messo mi piace sul sul video che è diretta che perché è bello perché è diretta più la ricercatrice che è una dottoressa non mi ricordo nomi inglese però ci manda i di video di pezzone per non starli tutto il giorno a seguirli perché diventa dei come si stanno comportando i falchi e devo dire che la natura dei falchi come genitori più o meno uguale a quelli degli umani che la femmina è molto come si può dire protese molti sui due piccoli perché il terzo non è nato non si sarà neanche fecondato lo credo come come è successo a milano è molto potretrice che non non fa neanche avvicinare il maschio perché il maschio porta il cibo va per darglielo ai piccoli ma la femmina lo blocca lo ferma gli prende la pareda dalla bocca è il maschio va via con le pivele sacco si vede che non è molto felice però la femmina essendo un terzo più grande del maschio si fa valere quindi no non fa toccare sui piccoli a nessun c'è al maschio ovviamente poi di notte dorme di coloro ormai non ricordo non li cova non li protegge più c'è non gli fa più caldo ma sta lì sempre perché sono ancora indifesi sta lì di notte con loro ma vi garantisco che cominciano già a fare le prime comiche per i fatti è la ricercatrice ha fatto vedere il video dei primi passi e nella comina per una comica perché cadono quando cominciano a camminare già cadono si robaltano fanno delle loro scene gheghe comiche comunque molto bello poi luisa ha anche votato i nomi è solo mi ricordo che sono nomi di pianeti di studio e due pulli e devo dire che è stata molto gentile che starete ricercatrice cia ciglia credo che siamo non so adesso mi sbaglio i nomi in inglese ci ha mandato nel mail di ringraziamento per aver scelto i nomi quindi vedete ragazzi è una bella cosa non chiedono soldi ovviamente perché e dovrebbero farlo perché è un fondo cioè è una ricerca proprio basata su quel tipo di uccelli lì di falchi per i ghi quindi li studiano non chiedono soldi però è una cosa bella utile da vedere e ti ringraziano anche per aver scelto il nome c'è scelto tu gli dai una scelta dopo la maggioranza di voti i danni i nomi definitivi ecco tutto questo questo volevo dirvi poi cosa abbiamo fatto di bello a diciamo che ho fatto una cosa che non tutti saranno d'accordo però ho fatto la vaccinazione io luisa per l'influenza e io l'ho presuniamo partiamo dal dire che l'ho fatta per evitare la i primi giorni di star male perché sapete si sta a casa una settimana si sta male i primi due giorni che da bestia però come sapete voi e se la prendete non è che non la prendete anche se la prendete la prendete in forma più leggera ma io l'ho fatto più che altro per luisa perché il dottore ci ha detto dottor di base ha detto che inutile che la fa solo l'uisa devo farla anche io che ne l'ho fatta anche se non siamo perché se siete se avete patologie e ve la passa da noi non abbiamo quelle patologie gravi così da essere passata quindi l'abbiamo pagata 18 euro rotti all'inizione sono iniezione monouso quelle picco tipo per diabetici l'avete capito la fate sotto per ha fatto a luisa perché ve la fate a casa e ovviamente quando la prendete dovete mettere in frigo se non la fate subito ma se l'ho fatta subito e me l'ha fatta sotto cutanea vabbè comunque sta di fatto che avevo fatto quindi per quest'anno siamo protetti dopo vediamo una trivalente che vi protegge sotto varie forme di influenza però vediamo quindi comunque ecco il partito già un colpo e poi mi dice non disturbare perché deve fare delle cose compiute comunque dovete se dovete farla fatela prima possibile perché non è che protegge subito ma ci vogliono 15 giorni prima che il patogeno lì che vi mettono che sono virus influenzali ma dormienti cioè non sono attivi però ci vuole una settimana due settimane quindi ragazzi fate presto perché se lo fate un po il più in là magari anche troppo tardi ovviamente dovete farlo se state bene non dovete avere raffreddore non avete tosse che cosa lì dovete stare bene poi entrando nel merito non voglio essere polemico sui vaccinazioni io le ho fatte tutte da piccolo vaiolo tutte le cose di che adesso non si fanno più per tosse tutte che cos'è se non mi ricordo le ho fatte tutte quindi io nella mia io dico fatele perché ci sono sapete i genitori che sono contrari io le ho fatte dopo ragazzi uno su milione può succedere che qualcosa che va distorta però è meglio sempre farle che però può dire mi succede qualcosa non lo fate io le ho sempre fatte non è mai successo niente quindi sta a voi decidere io sono pelle pro adesso mi sono schierato speriamo non prendere una malanga di insulti comunque poi cosa posso dire anzi un'altra cosa ho sondato fare sono dato dal fisiatra alla clinica città di brescia che a brescia e mi ha detto che mi ha dato sta cura di tre come si chiamano tre cicli di non viene il nome di come si dice uno risorse di disturbo cosa sono tre cicli di non mi ricordo più e va bene come mi ha detto lei non dà disturbo comunque sono tre cicli di come si dice luce onde d'urto brava ecco sono tre cicli che non dopo mi ha ordinato altre cose però il dottor di base mi ha garantito che comunque dovrebbe essere più che sufficienti per quel fastidio che io e qui devo ringraziare il meta salute e metà salute non è altro che un fondo assicurativo della categoria metà meccanici e vi garantisco che è sì una rottura diciamo tra parentesi per prenotare le visite perché ci vuole impegnativa il dottore piastra del telefono e tatatata ci vuole due cosiddetti però mi hanno passate tutte le visite e anche sti mi sembra che abbia detto luisa che sti cicli vogliono a seduta 60 euro 60 euro più o meno in cerca quindi mettendo che ho messo già due visite con l'ortopedico e già 90 euro a visita mettendo fatto l'ecografia e altri 90 euro mettendo i raggi che sono sui 50 anche meno mettendo il fisioterapista che non ho pagato i due euro del bolo quindi sono già 63 euro quello mi ricordo perché ho detto 63 euro più questi qua che sono circa 60 euro a visita e sono tre fate un po' voi conti cosa ho risparmiato ho risparmiato un bel sacco di soldi questa assicurazione quindi ringrazio la meta salute perché altrimenti perché altrimenti perché altrimenti ho risparmiato e devo dire che stavolta andando con perché metà salute in assicurazione che risulta come se fai da privatista cioè che vada a pagare i soldi ho risparmiato anche nel tempo perché se andavi con la mutua andavi già il prossimo anno quindi così ho già metà novembre c'è già il primo ciclo di terapia da fare quindi anche lì mi è andata bene non trovo giusto per mio parere civico come avere un'assicurazione o andare a pagamento perché vi garantisco che nelle mie buste paga ho delle trattenute che fanno paura sia per l'impef che per contributi e cose dell'impef quindi in teoria non dovrei pagare solo ticket e già lì non sarebbe giusto perché già pago quasi 1000 euro di trattenute cioè praticamente io mi sto già portando avanti a pagare già una pensione di un'altra persona e spero che quando si andrò in pensione io di averla anche io per queste trattenute speriamo di non farsi un'altra pensione alternativa comunque ecco chiudo qua il discorso perché lo sto facendo lunga quindi ringrazio metà salute che mi fa risparmiare anche se non trovo giusto che devo rivolgere una situazione privata per avere i miei diritti già che pago tanto di trattenute bene andiamo avanti con la spesa allora sul prisco preso sul pane e latte ovvero basta le solite cose che praticamente latte mi sembra 44 centesimi al litro quello parzialmente scremato poi il pane che costa 2 euro 10 kg quindi fate voi che risparmio rispetto all'emd poi ho andato all'emd scusate sono andato all'emd e ho preso le tagliatelle fresche mezzo chilo che domani e domenica facciamo i funghi con le tagliatelle che c'erano già la panna quindi 99 centesimi costa 99 centesimi quelle cresce poi ho preso il mezzo un chilo di funghi misti sul gelato che tanto anche se fuori tanto lo facciamo e viene 3 99 un chilo di funghi sul gelato misti ma vi garantisco che sono buoni sia come per fare il primo potete farlo con risotto tagliatelle oppure potete farlo come secondo con la carne vi garantisco che sono buonissimi non fate l'errore come ho fatto io una volta che ho preso solo i cos'erano un altro i champignon che non sanno da niente ecco ecco poi penso le patate sempre su gelate 450 grammi della queste qua con il rosmarino già tagliate tutto 1 euro 39 poi ho preso cavo i fiori perché iniziamo col cavo i fiori viene non era in offerta però venivano un euro ah si la vellutata eh ma se ti faccio i fagioli la la fagiolata non è passata di fagioli non quanto ne faccio di sul proprio no ma è un secondo la vellutata no è un primo è vero quindi o faccio una cosa o faccio l'altra se no ci vada male dopo poi si faccio anche la vellutata col bimbi perché il bimbi comincia adesso ad andare più in azione perché ragazzi dobbiamo usarlo è anche quello a parte i risotti che vi garantisco che sono una cannonata comunque andiamo avanti ho preso banane poche perché ne abbiamo già in frigo dalla costa rica e vengono 1 euro 29 il chilo sono poche banane perché ne ho prese già ne ho abbastanze poi ho preso l'aglio il famoso aglio di rovigo e viene 0,89 centesimi tre teste quindi abbastanza non so se lo chiamavano l'oro bianco una volta comunque poi 10 uova dell'aia e vengono 1 euro 49 10 uova dell'aia poi la birra non sono un bevitore di birra non sono un alcolista e questa birra adesso viene mezzo litro di birra viene 0,49 centesimi non è di marca ma non me ne frega niente perché con la birra faccio il polo alla birra è buonissimo o polo i fusilli fate come volete con la birra infatti non dovete altro che mettere dentro la birra il polo e basta un po' di dado magari in polvere ma una volta che si cucina sta lì solo con la birra va via l'alcol e diventa il sughetto e il polo prende il gusto della birra e vi garantisco che è buonissimo l'ho già fatto diverse volte ma ormai lo dico per i nuovi iscritti che mai non lo sanno comunque poi ho preso allora i cannellini aspetta scusate perchè si i cannellini allora sono tutti barattoli tipo fagioli 35 centesimi all'uno ho preso sia i cannellini poi ho preso i borlotti sempre due a testa e poi ho preso vediamo se lo trovo i di spagna credo che siano fagioli si bianchi di spagna di spagna ok mi sembra che costino tutti i 35 centesimi credo di si perchè come ho detto avete sentito eh siccome faccio il secondo il prossimo allora Luisa preferisce essere a mangiare un pasta e fagioli qui con il bimbi metti dentro questi qua una scatola prima la frulla la cuoce metti dentro il pomodoro l'acqua poi e anche la pancetta cubetti ed è buonissima più facile a farlo che a dirlo insomma andiamo avanti poi ho già detto sono tutti i 35 centesimi ok il zucchero è un chilo di zucchero viene 65 centesimi poi pancetta affumicata come vi ho detto prima 0,99 centesimi un po' da qua serve per fare diverse cose poi ho preso che non mi dimentico cosa il burro ecco questo era in offerta ve l'ho messo non si sa ecco qua avevo avanti gli occhi burro della malga eh paradiso 2,50 viene un nero e vi direi che questa è un'offerta un nero perché di solito ho trovato un nero 80 un nero ho preso i tre panetti ok questa è un'offerta poi ho preso il mais sotto vuoto un nero 65 mettete in acqua e fate volire per 20 minuti è a posto poi mettete burro sale pepe nero è buono così poi ho preso per sabato o domenio sabato credo il pollo viene ho pagato 4,85 al mercato l'ho trovato a 5 euro quindi va bene intanto lo riscaglio con le patatine in forno quindi è sempre buono poi poi tutto questo qua che vedrete sono beh ho preso sale grosso 2,17 centesimi eccolo qua sale grosso 17 centesimi poi ho preso carote 89 centesimi non è in offerta poi ho preso il pesto due confessioni intanto che per avere qualcosa perché si faccia la pasta 0,89 centesimi vino bianco 0,99 centesimi per bello ecco tanto ne avevo rischiato con l'occo pensate voi come sono ubriacone poi c'è il riso roma che era in offerta un chilo veniva un euro quindi una bella una bella offerta che questo di solito viene un euro 40 un euro 60 dipende poi dalle marche di qualità di riso ma io mi sono trovato bene tanto con i bimbi non ci sono problemi poi basta ecco qua adesso faccio vedere tutte le offerte che ho trovato allora sono 120 grammi il salame Milano viene un euro anche l'ungarese 120 grammi un euro dopo Milano già l'ho fatto vedere poi c'è il prosciutto cotto di Praga questo è 100 grammi ma sempre un euro quindi è buono e poi ho preso il polo il petto di polo ha fettato questo è 120 grammi un euro anche questo ecco e qua qua è tutta la mia spesa che ho fatto oggi quindi il video termina qui spero che vi sia piaciuto sono già un po' lungo quindi continuate a seguirmi continuate a seguire Luisa che credo che farà vedere quella opera bellissima che ha fatto ma quando il cliente l'avrà fatta vedere perché è un regalo non possiamo farlo vedere prima noi quindi aspettiamo che la settimana prossima vi farà vedere l'opera che vi garantisco è bellissimo quindi fortunata lei che l'ha presa e basta guardate sempre Luisa che adesso sta facendo farà nuovi lavori perché sennò qua il canale è l'aguila come si dice si impantana nel fango come si dice noi e basta quindi seguitevi seguiteci commentate iscrivetevi mettete like fate qualsiasi domanda e noi rispondiamo sempre ecco basta quindi il video termina qui vi saluto bellissime nuselle al prossimo video ciao a tutti ciao